FUGGERUN TU TREPIDI Io non sapevo nemmeno che fosse mai esistito giovenale. Perché proprio io? Commento. Perché nei tuoi fotogrammi esisteva questa scoperta. Aspettavo a te viverla come un fotogramma retto, cioè di coscienza, o in maniera lata, solo di mente. L'hai vissuta in maniera retta perché sei diventato docente di letteratura latina.